Ti tieni tutto dentro e te lo tieni per anni e ogni anno c'è sempre meno spazio finché un giorno non c'entra più niente e anche allora continua a infilarci roba, emozioni che non sa mai dove mettere e va a finire che si rompono perché molte volte sono fragili, silenzi che prendono tanto posto perché ogni silenzio è fatto di tutte le parole che si potevano dire non sono state dette in quanto le parole quelle sono come granelli di sabbia che si infilano dappertutto e poi ci sono le persone, tante, troppe e ogni persona prende spazio perché a sua volta è fatta di gesti, di espressioni, di ricordi, di emozioni, di parole, di situazioni e poi un giorno non ce la fai più e butti fuori tutto quello che ti sei tenuto dentro, ci può volere qualche minuto o intere ore, non importa, poi ti senti più leggero, c'è qualcuno che si mette a gridare, qualcuno a piangere, qualcuno se ne va a piangere, qualcuno, a piangere, qualcuno, a piangere, qualcuno, a piangere, Grazie a tutti.